Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi mi farò vedere mia mamma che gioca con questi anelli Fai vedere gli anelli Ma mamma, tu li fai vedere l'unice Sì, ma spiega cosa sono Spiega tu adesso Guardate, questi qua li abbiamo colorati Vedete? Questo è un gattino L'abbiamo colorato e l'abbiamo ritagliato Questo è un gallo Un cagnolino Un maiollino Una rana E sono questi qua Poi questi sono quelli ritagliati anche in Vitorio Sono per le sue dita, sono più piccolini Li abbiamo chiusi e incollati E adesso ce li possiamo mettere qui Con le dita E raccontare delle storie Vi lasciamo poi il foglio Che potete stampare anche voi per colorarli e crearli Che è di una bravissima ragazza che li fa Che si chiama Non mi ricordo il suo nome Ella Illustration Una cosa del genere Comunque vi lascio anche il link Della sua pagina Instagram C'è anche questo È da colorare C'è anche questo Che ha fatto questo con l'arcobaleno Per questo periodo di coronavirus Che è tutto da colorare È vero Midori? Tu lo vuoi colorare dopo? Sì dopo sempre Adesso iniziamo Vi raccontiamo la storia Degli nostri amici animaletti Ciao a tutti Ciao Che stavo da Babbo Natale Che stavo da Babbo Natale Che stavo da Babbo Natale Ciao bimba Sono un gallo Non sono una bimba Sono un gallo E guarda i miei amici che stanno Ma non ho nessuno Sono poverino Sono solo Ma che sei poverino? Aspetta amico Sono arrivato Sono arrivato io Sono arrivato il tuo amico Il tuo amico gattino Eccomi Miau Miau Oh cucciolino Cucciolino Midori Ma sei caduta Midori bimba amica nostra Cosa ti è successo? Non è caduta Vieni qui Dai senti Aia Senti amico Amico gattino Aia Amico gattino Dimmi dimmi Galletto Senti Ma io sono uscito prima per strada Ma chi è stato Che mi ha dato una bastonata Non si dà una bastonata agli animali Signore gattivo Ho capito Ma io stavo Stavo facendo un scherzo Un brutto scherzo Mi sono offesa Adesso me ne vado Scusa 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 Guarda Ok Stavo dicendo Parla qua dentro Che è tipo un microfono Stavo dicendo Che prima Sono andato per strada E ho visto una persona Con una mascherina Miau Ma che carnevale Che ci sono le mascherine Ma che carnevale Ma non lo sai Che è successo In questi giorni Un attimo Venite Venite Amici gatti Cosa è successo Cosa è successo Dai venite amici gatti Dove dobbiamo venire Midori Là Che cosa Sulla mia ponta Venite Andiamo Che ci spieghi Una cosa Venite Un segreto Quando andiamo là Lo scoprite È il cartello del coronavirus E che cos'è il coronavirus È una malattia Eccolo Vedi Che paura Un attimo Tranquillo Allora Allora Leggi qua tu Vedi A Coronavirus No Gli piacciono No Ama Gli animali Infatti Cocco Le due animali Ok Poi Lavati bene Le mani Sì io me le lavo sempre Bravo No io Non sto dicendo al gattino Le lavi sempre Ma io ho le zampette Non ho le mani Ok Mi le lavo le zampette Me le lecco Eh Infatti Quello È il lavare Poi Stanno a dire Né In gomito Ok Non mettonse le mani In bocca Ok Cattiveria Un attimo E poi Mangia Queste cose Che stanno qua Perché stanno Tante bene Buone Io mangio tutto Niam niam Io Queste due cose Io non mica le amo Va bene L'importante Che mangi anche gli altri Eh Io mangio Mela Carota L'urpe Dai Dai Mangio Mela Carota Banana E pera Ok Andiamo ai nostri amici A raccontargli questa cosa Eccoci Eccoci Amici Ciao amichetti Mi dite Cosa avete scoperto di nuovo oggi Una bimba Ci ha spiegato Che cos'è il coronavirus Dice che è una malattia Che sta girando adesso Molto pericolosa E prende le persone A noi no Vero Ma c'è Ma c'è anche La febbre alta Se ti capita questa cosa Ai vecchietti C'è già una malattia Muorono eh Eh lo so È molto pericolosa Ci ha raccontato Ma per fortuna A noi animali Non ci prende Però noi Siamo molto tristi Per i nostri padroni Oh croc 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 Mi dispiace tanto Aspetta Glielo voglio raccontare Anche al cagnolino Che lui ha dei padroni Magari non lo sanno I loro padroni I suoi padroni Ok andiamo Ciao amici Eccomi Bau 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 Cosa è successo Cosa dovete dirmi Mela mi sentite Cosa dovete dirmi Niente praticamente È successo una cosa grave Ce l'ha detto una bimba Che l'abbiamo incontrata C'è ancora un virus Che era una malattia Bau 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 La conosco già Per fortuna I miei padroncini Si sono subito Rinchiusi in casa E non escono Quindi loro Sanno molto protetti E io Li voglio tanto bene Gli sono sempre vicino Oh che cucciolo Cuccioletto Sei molto carino Sei molto carino Ma chi è? Sono io Il maglialone Maglialone Eccomi Ho visto delle persone Con la moschettina Ma che carnevale? Si carnevale Ciao core Ma che carnevale È passato carnevale Magari era per quello È per la malattia Del coronavirus Ah ho capito Vieni amore Venite La bimba Ce l'ha spiegato per bene Adesso lo sappiamo tutti Sì ma lo conosco anche io Bimba Lo conosco anche io Il coronavirus Io spero solo Che passi molto in fretta Perché Voglio che i bimbi Mi ritornino Mi tornano A fare compagnia Ho capito A visitare Nelle fattorie Vogliamo i nostri amichetti Ma a voi animali Non vi prende Lo sapete? Lo so Però i nostri amici Vogliamo Vogliamo i nostri amici Che ci tornano A trovare Che ci coccolano Ah ho capito Noi i vostri amici Animali Questi amici Persone Bambini A persone Certo Io Eh brava Ci mancano molto Ho capito Ma non vedete Che sto qui Io sto nella fattoria Nella fattoria Non vengono più Le persone Capito Mi mancano Mi mancano tanto Ho capito Ma non vedete Che voi state qua Io sto qua Ma noi siamo finti Midorini Che stai Cucciutina Capito Ma per finta Dai Vi facciamo finta Che sono veri Ciao a tutti Ciao Adesso vi salutiamo Perché Andiamo Io vado a casa Anche io Io vado nel mio stagno Ecco E noi torniamo Nella nostra fattoria Ciao Midori A presto Ciao Ciao Un bacino Ciao